Ciao a tutti amici di CryptoJam e benvenuti a un'altra puntata. Allora, oggi volevo parlare un po' delle metaverse token, perché vedo che è un topic hot sul mercato. Il fatto è questo, che noi ne abbiamo parlato spesso e ho sempre detto che sono buoni investimenti a lungo termine. Il motivo è semplice, perché se voi vedete Disney che ha fatto il suo ingresso l'altro giorno nella metaverse con quella dichiarazione e vedete che Facebook poco tempo fa aveva dichiarato, anche se Facebook già da luglio diceva che voleva entrare nel metaverse, ovviamente sono tutte scattate verso l'alto, però dovete capire che nessuno di queste compagnie ha ancora fatto niente di tangibile. Quindi, quando cominceranno veramente a costruire le dApps, cominceranno a offrire i prodotti della metaverse, allora lì la metaverse comincerà a prendere veramente il vero spike, non quello creato dal FOMO, ma quello delle istituzioni, quelli dei veri soldi, quello dell'inflow, quello del cashflow. Quindi, per quello che vi dico, le metaverse è molto giovane come mercato. E ancora, lo ripeto, ieri l'ho fatto vedere in live, se volete vedere quali sono le categorie di metaverse, basta che andate su CoinMarketCap, Metaverse, e qua ci avete praticamente tutte le coin che sono related al metaverse, ok? Quindi, questo è uno dei miei coin che ho da un po' di tempo, Engin, l'ho anche parlato in chat, Mana, anche un altro progetto molto buono che ho da tempo, e poi c'è Sand. Andiamo a vedere i loro chart. Allora, ieri, se vi ricordate, c'è stato il primo spike, ok? E io ho detto, comunque, essendo che abbiamo già dato i target qua, non ho mai capito perché la gente non compra nelle zone di accumulo, ma aspetta sempre che ci sia il hype. Perché poi la gente mi dice, secondo te è un buon momento di comprare? Io a lungo termine, ragazzi, è sempre un buon periodo per comprare, il problema è che se dopo lo prendi nel hype e fanno un dump e scendi giù qua al supporto di nuovo nella zona di accumulo, dopo io magari non voglio che tu da me mi venga a dire, ah ma mi avevi detto che è un buon prezzo a tre a prenderlo, e adesso devi aspettare un anno, capito? Io non, per quello che, io vi do i punti chiavi, spero che voi un po' capiate. Un'altra cosa che avevo fatto vedere, era questo channel, come vedete, che sembra un po' come una mega bandiera, una mega bullish flag, che è stata rotta qui l'11 novembre, ok? E sembra che uno dei video l'avevo anche condiviso. L'11 novembre c'è stata la prima rottura, guardate, l'11 novembre, ok? E poi questa è una rottura, la cosa bella di questa rottura è che era una rottura con volumi, capito? Quindi a me piacciono le rotture con volumi perché sono più significative, mi dicono di più che è una rottura vera di quel, cioè quella rottura è veramente consistente, quindi c'è qualcosa che succede. Ovviamente nessuno, penso abbia guardato questo, perché quando io poi vi spiego alcune cose la gente percepisce solo quello che vuole percepire, sfortunatamente, ma non vede tutto il resto, no? Quindi io spero che più avanti riusciate a capire quando vi do i segnali giusti. In più abbiamo avuto, dopo che è andata al di sotto, vedete? Io sto guardando quell'orario perché per vedere bene la rottura, è quell'orario molto più dettagliato, però possiamo vederla anche a un 4 ore se volete. Ecco qua, 4 ore, guardate qua, una rottura netta, ok? E poi è ritornata anche sopra la moving average. Come vedete, dopo la rottura c'è stata questa continuazione del trend inesorabile, quindi sarebbe stato, i miei punti secondo me migliori per entrare erano, ci sono i trader che comprano sui supporti, ci sono i trader che comprano sulle rotture. Entrambi i trader non hanno né torto né ragione. Ovviamente comprare su una rottura indica, bisogna avere un po' più di esperienza per capire se è la rottura giusta. Sui supporti l'importante è piazzare l'ordine e poi lì al massimo metti a qualche percentuale più bassa il tuo stop loss per evitare queste candele qua che vanno un po' giù ed è un fake breakout, quindi se no la osservi te manualmente e vedi. Quindi vediamo questa rottura e soprattutto questo era un ottimo punto, io di solito compro sui supporti, anche sulle rotture mi piace comprare, però molto più spesso sui supporti perché mi danno anche un modo per mettere gli stop loss molto più precisi, perché sappiamo che una volta rotto un supporto poi andiamo molto più in giù, anche se io la tengo a lungo termine, facciamo conto che io la voglio ottenere per 5 anni, ma io fra 5 anni avrei il 30% in meno, non avrebbe senso comunque per me, cioè io preferisco avere il 30% in più che il 30% in meno, anche se fra 5 anni fa il 2000%. Un'altra è Mana, comunque per finire la discussione qua su Sandbox, Sandbox ha un market cap molto più piccolo di quello di Mana, ed è per quello che potrebbe performare molto meglio di Mana, in senso Mana sicuramente performerà bene perché è quella più in vista, però Sandbox ovviamente ha un market cap più basso, solo questo è un appunto che volevo fare. Ok, allora Mana, o Decentraland come la volete chiamare, avevamo fatto parecchi studi, è la cosa che mi sorprende anche qua che nessuno mi ha mai chiesto in chat quando era qui è Mana buona da prendere, tutti me l'hanno chiesto quando Mana era qui. Una cosa che veramente fino adesso ancora mi sorprende molto è questa storia. E come vedete adesso non è su questo chart, comunque quando, vediamo se è sull'altro quello, quello di Bitcoin, forse è qua, poi vedremo anche Bitcoin. Ok, praticamente c'era un evidente supporto che avevamo anche visto in chat, che era questo qui, vedete qua dove è rimbalzato questa zona, ok? Questo era un evidente supporto, come vedete è andata su, e poi da qui è andata su di nuovo, quindi c'eravate già due punti di riferimento molto buoni, quindi magari se non l'avete preso qui, a parte che c'è andata su una, questo è a quattro ore, quindi, due, tre, quattro, c'eravate quattro occasioni per poter comprare questo. Facciamo conto che le prime due vi servivano per conferma, ok? Avete avuto la conferma che questo è un supporto. Torna giù, potete prenderla qua, vi siete mancati, torna qua, lo potete prenderla qua, a parte che potete piazzare i buy order senza essere al computer, quindi non c'è neanche bisogno che fate al computer. Comunque, se di fatto che qua potevate prenderla, nessuno l'ha preso ovviamente, o pochi sono riusciti a prenderla. Adesso, cosa è successo? Innalzamento del prezzo, vedete, scusate, dei volumi, classico higher high, che è successo qui per portarla fino su, e c'è stata la rottura di questo supporto. Vedete, questa è una rottura netta, scusate, della resistenza. Questa è una rottura della resistenza. Ora si sta formando questa piccola candelina qui, che è una reversal pattern, però essendo che siamo in un uptrend, potrebbe essere negata. Sta di fatto che se questa reversal pattern, vedete, una rossa qui, può essere che riscenda un po' più in giù, ok? Quindi stiamo a vedere a fine giornata come performa questa reversal pattern. Sta di fatto che siamo sui massimi, abbiamo rotto gli ultimi massimi, gli ultimi high, abbiamo rotto e stiamo confermando la rottura. Però al daily, se vedete, la rottura non è stata confermata, perché come vi dico, daily e il 4 ore dicono due cose diverse e possono ingannarvi. Alle 4 ore non c'è stata la rottura, perché non c'è stata nessuna chiusura giornaliera al di sopra di questo livello. Mentre nelle 4 ore uno potrebbe dire ah, c'è stata la rottura. Però come vedete c'è stata anche una reversal pattern candle, ok? Quindi attenzione a queste cose se volete entrare nei punti precisi, nei punti giusti. E poi potrebbe formarsi il cosiddetto double top, se questo dovesse tornare ancora giù. Il double top, come sapete, è un bearish pattern. Però ragazzi, per ora il metaverse a lungo termine, chi lo vuole prendere per lungo termine, io dico sempre che è un buon investimento. Qua come vediamo non siamo ancora arrivati ai massimi, i massimi sono circa sui 2,30, sui 3,30 scusate, 3,30. 3,30, quindi ai 3,30 bisognerebbe vedere un po' se ci dà dei segnali di conferma o no per la rottura. Se l'ha fatto che qua vedete c'è un alzamento dei volumi, stanno ancora andando su. Vediamo ragazzi, vediamo come andrà a finire questa giornata per le metaverse token e sono confident che nel lungo periodo andrà molto bene. Se cercate un punto di accumulo, ovviamente ragazzi, guardate bene sti video, perché questi sono, io ve li ho già date le zone di accumulo tempo fa, quindi guardate bene le zone di accumulo, guardate le 4 ore, guardate il daily, anche l'orario è buono per individuare piccoli reversal pattern, quindi tutte cose buone da guardare. E niente, questo è tutto per oggi ragazzi, volevo darvi un attimo un overview dei chart, in modo che se volevate entrare, se volete vedere le metaverse, c'è un sacco di monete sulle metaverse qua, guardate che roba, andate a vedere quelle che stanno magari con un piccolo cap, se pensate di aver perso il treno, market cap, le mettete in ordine, ho fatto vedere anche ieri queste cose. e vedrete che ci sono ancora un sacco di monete molto piccole, andate a vedere per esempio questa, per esempio, questo è un esempio, poi andate a vedere il sito, leggete bene quello che fanno, ok, se vi sembra un buon progetto o no, andate a vedere il loro twitter, sto facendo vedere come si analizza una cosa, già non mi piace il fatto che mi sto rompendo, andate a vedere il loro twitter, quanti follower hanno, quanta gente li segue veramente, che possono essere fake, quanta gente commenta veramente che non sia un robot, qualora ho intento, andate a vedere anche il white paper, perché magari un giorno farò anche un qualcosa sul white paper come leggerlo, quindi questo è un modo per trovare nuovi coin se volete, attenzione ai coin che fanno solo hype, ma non hanno sostanza però, e questo è tutto per oggi per le metaverse, penso che farò allora il video per bitcoin più tardi, perché non voglio fare questo troppo lungo, unica cosa veloce su bitcoin che voglio dire è che ieri abbiamo abbiamo individuato, avevamo individuato quel pattern, dove che è? avevamo, vi ricordate il bullet pinter, questo pattern qua, che ha retto molto bene, comunque vedete che si sta riavvicinando di nuovo a questa linea di supporto che avevamo individuato ieri, e in chat quando ho cominciato di andare su video ho detto ragazzi a me non piace come sta andando su perché è ancora alle 4 ore sotto la moving average a 50, e infatti stamattina è ritornato giù di nuovo, quindi attenzione anche a queste cose, non fatevi prendere dal fomo momentaneo solo perché ha fatto un rialzo del 2% in poco tempo, guardate questa zona di supporto, se perdiamo questa zona di supporto ne abbiamo ancora una a 60, quindi dopo magari farò qualcosa di più specifico, questo è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima puntata.